L'S&P 500, il principale mercato azionario americano, ha toccato un nuovo massimo. Al 22 di ottobre 2021 abbiamo toccato l'incredibile picco di 4549 punti. E dopo l'incertezza che abbiamo visto a partire da settembre, tutto settembre è stato abbastanza incerto, un po' di volatilità che durante anche ottobre, in dieci giorni l'S&P 500 ha rimbalzato e siamo tornati a nuovi massimi. Dall'inizio dell'anno abbiamo raggiunto l'incredibile rendimento del 21%. Praticamente è cresciuta la media del 2% al mese. Ampiamente superiori alle crescite medie di lungo periodo dell'S&P 500, che appunto me l'avrai sentito dire in varie salse, su periodi lunghi di tempo il mercato azionario americano è cresciuto di circa il 10% medio anno. Qui siamo al 20% in dieci mesi e mezzo circa, quindi siamo ampiamente sopra la media. Ed è ovvio che è logico chiedersi quanto può durare. Perché in questi momenti arriva l'ansia da all time high. In altre parole l'ansia da nuovo massimo. E in questo video, statistiche alla mano, facciamo qualche ragionamento sui nuovi massimi. Benvenuti alle ultime notizie della sera. Dopo aver evoluzionato il mercato con il software Live Planner e creato una guilla sul porto del risparmiatore, uno dei primi in Italia a creare una comunità di investitori consapevoli. Giorgio Pegorari, fondatore di Piano Finanziario, L'11 novembre, ore 21, presenterà qualcosa di unico che rivoluzionerà tutto il sistema della finanza personale. Iscriviti all'evento Populismo Finanziario. A tutti, buon proseguimento con i programmi. Ciao, io sono Giorgio Pegorari, investitore, imprenditore e fondatore di Piano Finanziario. E in questo video mi metto il cappello da analista finanziario, cioè colui che studia i mercati e fa analisi sull'andamento dei mercati. Ed è anche una figura certificata. Gli analisti sono quelli che poi spesso gestiscono fondi comuni di investimento, quindi hanno capacità di analisi dei mercati finanziari, capacità che poi sono state certificate dalle varie certificazioni che ci sono là fuori. Negli Stati Uniti è molto famosa il CFA, in Europa e nel resto del mondo CIIA. Io sono certificato CIIA. Bene, a parte questo, che ci interessa fino a un certo punto, l'obiettivo comune però è analizzare il mercato. Soprattutto l'obiettivo è quello di capire, ci sono nuovi massimi. E già qualche settimana fa, magari molti pensavano che aveva già raggiunto il massimo a settembre, avrebbe cominciato un lento declino. Perché? Perché deve scoppiare prima o poi il mercato. Sì, tutti lo sappiamo, nessuno sa quando. Però la statistica ci aiuta a contestualizzare meglio gli whole time high, cioè i nuovi massimi. Facciamo una premessa. Se su questo canale parliamo spesso dell'investimento azionario, dell'investire in mercati come l'S&P 500 o altri mercati azionari mondiali, è perché su lunghi periodi di tempo il mercato ha sempre dimostrato di crescere. Ok? Perché? Perché in altre parole sta investendo nell'economia reale. Molte persone non lo capiscono, ma quando compri azionario, tu stai investendo nell'economia reale, hai comprato un pezzo di azienda, di Apple, di Google, eccetera. Lo stai facendo direttamente o indirettamente. Se compri l'azienda Apple, ok? Quindi vai su New York Stock Exchange, ti compri l'azione Apple, lo stai facendo direttamente. Potresti farlo indirettamente comprando un fondo comune di investimento, un ETF, eccetera. Ma è economia reale, ok? Proprio non è la forza che non capisce nessuno come funziona. No, è economia reale, sta investendo in aziende. È come fossi un imprenditore che ha la sua azienda, come io ho le mie aziende, sto investendo nelle mie aziende. La stessa cosa è quando investi in uno strumento azionario, solo che non lo fai direttamente. Magari non ne vedi la proprietà perché è tutto gestito dalla tua banca e fondamentalmente il titolo lo vedi solo nel tuo deposito titoli, ma questo non cambia la sostanza. Non so se è chiaro che stai investendo nell'economia reale. Ok, reitero questo concetto, te lo ripeto fino allo sfinimento, perché le persone non capiscono questi concetti. Si parla di giocare in borsa, in realtà non è così. Si parla di investire nei mercati finanziari, che è uno strumento, il mercato finanziario, ma con l'obiettivo di investire nell'economia reale. Detto questo, se investiamo nell'economia reale, ci prendiamo un rischio, perché sappiamo che investire ha associato un rischio, basso, medio, elevato, dipende da cosa scegli di inserire nel tuo portafoglio, ma c'è un rischio, e se ci prendiamo un rischio vogliamo essere remunerati. Per i mercati è così, è normale che se tu ti prendi un rischio esponendoti all'azionario, ad esempio, questo genererà una crescita del tuo patrimonio, che nel lungo periodo potremmo approssimare come costante. Ok, una crescita così. In realtà, chiaramente c'è una forte volatilità. Però è ovvio che se il nostro patrimonio cresce, se un indice cresce, secondo una linea teorica di questo tipo, bene, ci saranno costantemente nuovi massimi. In altre parole, i nuovi massimi che quotidianamente ci sono per un mercato azionario sono la dimostrazione che il mercato nel lungo periodo cresce sempre. Se per dieci anni non ci fossero nuovi massimi, allora questa teoria, che ti spiego velocemente qui su YouTube, ma ne parliamo in modo molto più dettagliato nei nostri percorsi, cioè che il mercato sul lungo periodo cresce sempre, non sarebbe vero. La prova che il mercato cresce sempre nel lungo periodo è perché ci sono nuovi massimi. Quindi il fatto che ci siano nuovi massimi non dovrebbe generare una particolare ansia. O meglio, chiaramente va contestualizzato. Dipende da quanti nuovi massimi ci sono. Statistiche di questo tipo sarebbero incredibilmente noiose per YouTube, quindi le teniamo per i nostri iscritti all'interno dei percorsi di piano finanziario. Però capirai che è logico che ogni anno ci sia un certo numero di nuovi massimi, altrimenti non sarebbe confermato il trend che nel medio e lungo periodo porta i mercati a crescere. Detto questo, voglio condividere un contenuto molto interessante che ho trovato, che si chiama All Time High Anxiety, quindi l'ansia da All Time High, l'ansia da nuovi massimi, ed è un contenuto di Dimensional Fund Advisor, è un'istituzione finanziaria americana. Il contenuto di cui leggiamo solo i key takeaways, cioè i punti chiave, dice che i giornalisti finanziari periodicamente impauriscono gli investitori con l'ansia da nuovi massimi, suggerendo che nei mercati finanziari funzioni la legge della fisica, cioè che se i prezzi crescono, prima o poi dovranno crollare, è un po' come se lanci in aria un sasso per la forza di gravità, questo riatterra. Dipende, perché nei mercati finanziari, come abbiamo detto prima, stiamo investendo nell'economia reale, le aziende in cui investiamo producono utili, reinvestono, in più abbiamo fenomeni inflattivi, abbiamo la crescita degli utili anno dopo anno per ragioni di incremento della produttività delle aziende, quindi le leggi della fisica all'economia non si applicano. Infatti l'articolo dice, le azioni non sono oggetti pesanti come dei sassi che devono cadere dopo che li hai lanciati in aria, sono un perpetual claim, in altre parole un diritto, agli utili e ai dividendi della società in cui sta investendo, come dicevamo prima. Se le azioni hanno un rendimento atteso positivo nel medio e lungo periodo, raggiungere nuovi massimi con una certa frequenza è esattamente quello che dovrebbero fare, che è un po' quello che dicevamo prima, se ti aspetti che siano il migliore investimento nel medio e lungo periodo, è normale che facciano nuovi massimi. Quindi gli investitori dovrebbero trattare i nuovi massimi in modo freddo, non con particolare eccitamento o neanche con particolare allarmismo. Ma è qui che arriva l'aspetto interessante di questo contenuto. Perché? Perché in questo momento chi sta guardando questo video sta facendo una considerazione. Sì, sono nuovi massimi, ma scrivimi nei commenti che cosa sta pensando l'investitore medio. L'investitore medio, e lo vediamo dai commenti, in questo momento, dice sì, sono nuovi massimi, ma io aspetto ad investire quando ci sarà uno storno. Perché comunque i mercati stanno crescendo da 10 anni, perché bla bla bla. Tantissime argomentazioni che su questo canale abbiamo già smontato, che hanno portato molte persone a non investire dal 2009, perché, boh, non lo so, non ci sono ancora le condizioni ideali per investire, e sono passati 12 anni dall'ultimo crollo, e l'S&P 500, considerando i dividendi, ha più che quadruplicato il suo valore. Quindi queste sono le considerazioni dell'investitore medio, non dell'investitore che segue i percorsi di piano finanziario, perché chiaramente questi concetti sono strasviscerati all'interno dei nostri percorsi, e sono errori che i nostri iscritti non commettono. Vediamo in questo studio quanto non è particolarmente intelligente la scelta di aspettare il prossimo storno. Prima di tutto perché nessuno sa quando si verificherà. È ovvio che prima o poi ci sarà, ma nessuno può sapere quando. Quindi compatibilmente con la propria tolleranza al rischio, il miglior momento per investire è ogni giorno, perché non puoi mai prevedere quando ci sarà il prossimo crollo. Ma soprattutto, numeri alla mano, non vi sono particolari differenze per investitori di medio periodo. Nel breve periodo ci possono essere differenze, se investi oggi o tra un mese, nel caso tra un mese ci sia un crollo. Ma per investitori di breve, medio periodo, non vi sono differenze. Non solo per gli investitori di lungo periodo, ma neanche di medio periodo, 3-5 anni. E la prova numerica è in questo studio. Ah, e stiamo dando per scontato che tutti su YouTube diano le prove numeriche di quello che sostengono. Visto che non è così, ci starebbe un like, un iscriviti al canale, un condividi questo video, perché finalmente si parla di numeri. Ok, in questo studio sono stati analizzati i rendimenti dell'S&P 500 in un periodo di 94 anni. È per questo che ci piacciono i mercati finanziari, perché hai un secolo di storia che puoi analizzare e che ti dà confidenza sui meccanismi di funzionamento. Hai molta storia da studiare se la vuoi studiare autonomamente, se no scrivi percorsi di piano finanziario e fai molto prima. Bene, in questo studio è stato analizzato il rendimento dell'S&P 500, appunto nel caso un acquisto dell'indice o di un ETF che replica l'indice, sia stato tenuto per un anno, per tre anni o cinque anni, in due condizioni, in un caso in cui l'acquisto sia stato fatto al massimo del mercato o dopo un crollo del 20%. Quindi in altre parole sono stati analizzati tutti i nuovi massimi degli ultimi 96 anni di storia ed è stato verificato qual è il rendimento storico medio per un anno, tre anni o cinque anni di detenzione dell'indice dal massimo, dal precedente massimo. L'obiettivo è proprio smontare la tesi che dopo un nuovo massimo crolla tutto. Infatti i numeri dimostrano che per un anno di acquisto di questo paniere di titoli non vi è sostanziale differenza se compri dopo un massimo o se compri dopo un crollo del 20%. Anzi, storicamente si è dimostrato più efficace comprare ad un massimo. Dopo tre anni, praticamente molto simili, dieci e mezzo di rendimento medio anno contro nove e nove. Dopo cinque anni, sostanzialmente non vi è differenza. 0.3 punti all'anno di media. Perché accade questo? Scrivimelo nei commenti. Ok, la ragione si chiama momentum. Questa è la ragione. Cioè la tendenza che hanno i mercati che stanno crescendo di continuare a crescere. Che si contrappone alla tendenza che hanno i mercati che stanno crollando di continuare a crollare. Questo si chiama momentum. Puoi visualizzarlo come il concetto dell'inerzia. Cioè il fatto che, ad esempio, se devi spingere un'auto che non si muove più e da rotta, la prima parte, magari è una 500 vecchia, che potresti spingere anche da solo. Bene, l'inizio, cioè farla partire, farla muovere, è la cosa più difficile perché stai muovendo la massa del veicolo. Ma dopo che ha un po' di movimento, mantenerla in moto è più semplice. Ok? Perché hai già vinto l'inerzia di muovere la macchina in prima battuta. Lo stesso principio vale per i mercati finanziari. E questo principio, questo fenomeno, è stato strastudiato e si chiama momentum. Attenzione, perché past performance is no guarantee of future results. I rendimenti passati non sono in alcun modo garanzia dei rendimenti futuri e soprattutto i rendimenti medi che stiamo vedendo qui non vuol dire che questa tendenza si verifichi sempre. Vuol dire che mediamente, a livello storico, si è verificato questo scenario. È chiaro che poi, dal momento che nessuno può prevedere il futuro, i dati storici medi sono l'unica cosa che abbiamo, ma che è più che ragionevole per poter creare un piano di investimento nel medio e lungo periodo. Quindi, riassumendo, uno, che i mercati raggiungano nuovi massimi è assolutamente normale, anzi, ci sarebbe da meravigliarsi del contrario. Due, se non investi per la paura che ad un nuovo massimo sia seguito un crollo della volatilità, non hai paura del massimo, hai paura del fatto che non sai investire, non sei seguito magari da una persona di cui ti fidi e non padroneggi lo strumento. Quindi, il problema non si risolve aspettando, si risolve imparando a gestire gli investimenti finanziari. Punto numero tre, per investitori di medio e lungo periodo, il punto di ingresso che sia un massimo o un minimo relativo non fa particolare differenza. Fammi sapere le tue riflessioni nei commenti, con questo è tutto, ci vediamo in un altro video. Ciao! Questa è la nuova sezione scopri all'interno di pianofinanziario.it Video esclusivi selezionati in base alle tue preferenze, sondaggi per verificare la tua situazione finanziaria, quiz per controllare se hai compreso i contenuti più importanti della lezione. Questo e tanto altro nella nuova sezione gratuita all'interno di Piano Finanziario. Iscriviti ora su www.pianofinanziario.it Grazie a tutti.